Un violento nubifraggio nella notte in provincia di Catania. Molte strade si sono trasformate in fiumi, la cui corrente ha danneggiato spostando le diverse auto. Soccorsi sono stati prestati da squadre dei vigili del fuoco inviate da Catania e da Palermo. Sul posto sono stati inviati anche i sommozzatori dei pompieri. I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia ed Agira, dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Il personale dell'ANAS ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade, come un tratto della strada statale 417 Catania-Gela in territorio di Mineo, la statale 385 di Palagonia e la statale 280 Catania-Enna. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della protezione civile regionale, che ha inviato personale nelle zone colpite dal nubifraggio, non ci sono feriti. Considerati i fenomeni atmosferici avversi che da ieri sera interessano Catania, l'amministrazione comunale d'intesa con la prefettura raccomanda ai cittadini la massima prutenza alla guida e di evitare in particolare l'utilizzo di mezzi a due ruote, motocicli e biciclette per gli spostamenti. Anche un camion dei vingi del fuoco di Catania è stato travolto dalla violenza delle acque. I quattro componenti della squadra sono rimasti bloccati per oltre tre ore dall'acqua alta circa un metro e mezzo vicino al parco archeologico di Palichè, in territorio di Mineo, e sono stati soccorsi da altri colleghi. La squadra comunque non ha voluto fare rientro ed ha proseguito nel servizio di assistenza. Le scuole sono regolarmente aperte. Il centro segnalazione emergenza e la protezione civile comunale è raggiungibile al numero 095 48 4000, attivo 24 ore su 24.